E' arrivato un ospite inatteso. Pare che ieri notte qualcosa di strano si sia introdotto nella nostra atmosfera. Presto la vita di ognuno sarà trasformata. Perché quell'ospite non è venuto per una visita. Qualcosa si muove. Che diavolo può essere? Uno dei nostri visitatori, presume. Ma per trovare una casa. La sonda penetra nel cervello e questi uncini si inseriscono nella colonna vertebrale. Cioè ci usano come marionette. Ci stanno manipolando. Sono in grado di trasmettere non solo intelligenza, ma anche memoria. Siamo esseri umani anche noi. Ne ha uno addosso! Ricondate l'edificio! Sicurezza! In un giorno, 4.000. In due giorni, sono già 16.000. Nel giro di due settimane saranno... Più di 250 miliardi. Non possono agire senza il loro consenso. Abbiamo perduto una città e adesso anche un esercito. Danny! Usano i bambini. Non possiamo più considerarli bambini. Danny! Non possono gridare se non glielo permettono. Ho bisogno di te. Non possono fuggire quando il nemico è dentro di loro. No! Come farò a sapere che sei tu? Se non sarò io, sai cosa fare. Aiutami! Donald Sutherland. Levateglielo di dosso! Il terrore dalla sesta luna.